Ragazzuoli benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi vi porto un video allucinante. Credo di non aver mai fatto da quando iniziato a giocare su Fortnite una partita del genere, specialmente in un torneo su Fortnite. Ragazzi siamo arrivati in endgame in questo torneo, soltanto io ed Efesto, il nostro trio era morto. E ragazzi rischiamiamo di non qualificarci perché avevamo troppi pochi punti. Ma in questa partita io ed Efesto, io e lui insieme in endgame abbiamo fatto 30 punti. Da 53 punti fino a 83 ragazzi. È stata una partita allucinante e credo che una cosa del genere non si sia mai vista nella faccia della Terra. Quindi ragazzi mi raccomando godetevi questo video perché ne vedrete delle belle da inizio game fino alla fine perché è un game strepitoso. E come sempre ragazzi vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video e di utilizzare il codice creatore Croatomist nell'item shop di Fortnite. Detto questo ragazzi godetevi questo video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Una buona visione. è il primo troppo. Ah la scialla non vedo se facciamo. Ecco. Se me ne troppiamo andiamo la. Andiamo alle fabbriche. Due in chiaro del genere. No a retail hanno paura di andare. Pure che veniamo con i due team. E non ci sono mai troppati perché sono quelli che potevano. Io vedo già un team. Un tipo di forse è un tipo solo ma io la fabbrica mia non arrivo bene. Esatto. Io posso andare alle case bene. Se le fabbriche lasciano ok sono. No. No 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 ho un tempo. Come ho detto adesso a te dove siete i tuoi abbiamo di più di loro perché avremo più tutti loro alla fine a fine luce arrivato in fondo la casa ha un tattico e volete portano mente si vortano le feci siete qua sotto ti buscino a noi arriva arrivo a valentare al campo anche io che ero di verde male attaccata la tiglione mancano un'altra volita e sapi di turi c'è duro finiscilo e peta sono un god vieni qua è l'ultimo calmo calmo tutti morti ok ok mi hanno la serata dobbiamo padare gregato il primo sono due sono solamente due hai pure c'è raccato uno vai vai morto morto l'ho dominato sono tutti lì sopra hanno sentito uno da sotto qua davanti proprio da solo siamo da sinistra sono due sono tre bellissimo lì l'ho pingato c'è gente sulla montagna c'è un robot a sud mettiamo dentro sta guardando il viraglio del momento massimo ce la rispettiamo dopo vogliamo giampare ma è qua sotto è qua sotto mi butta le sinistra ma vai di rocket e io dato guarda tirano rocket qua no non posso aspetta non posso dietro di noi dietro di noi oh jumpiamo guarda magari è fatta dire male finisco non sei capace io e uniamoci jumpiamo per favore rica c'hanno lanciato c'hanno lanciato trageglie qui di mezzo ok guardate qua davanti 31 31 31 30 traccato ma sotto c'è gente guardate di tutti quelli là su destra tutti eh vai sto col biniga 26 26 oh è il varet lì è festo vado di tra aspetta vado quanti mezzo avete rica eh guardi ho fatto qui scusate quanti mezzo avete scusatemi 143 io ho 4-3 e basta io non me ne vedo corri corri da e disano сидemi guarda po sto avete shiit ragazzi? mini uni no ho se scuite di squadra ma qua s 윕 avna o no? ah i rocket, hai fatto i rocket le rocket avdelò tantissimo eh venite qua venite qua siamo insieme i regali stanno bombardando non ripetato non ripetato no 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 non preoccupate cominciato nell'area e white c'era uno qua c'era una la sua cessi che era proprio qua ti butto le stick così non ho colicato i tabiuti cosa fa che ne ammazza è dietro fa si ricorda oh c'è uno da me ho trappato ho trappato uno pure io pure io pure io anche io leo avete due rocket le sull'urpa io le puoi prendere le sull'urpa? no ma io ho 6 flash avete un bot di rimesso e ampliate aspetta posso 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 non ho visto quanti sono avete due rocket ricordate che vogliamo fare? vedi qua sono gucci e se facciamo questo game buono ci qualifichiamo con questa mi connetto a te ho impulsato sono a posto usate quei roves usate quei roves mi vogliono allaterare guarda patuno guarda patuno morto la grande ferie non c'è non avere paura bravissimo aiuto aiuto è bianco è bianco è bianco è bianco è bianco mi devo curare è tranquillo tranquillo io sono gucissima carico le RPG un attimo let's fucking go è best l'aparte ci sono la l'aparte 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 Grazie a tutti.